Bis servito. Dopo aver sbancato Vigarano, pallacanestro femminile Umberti dei grazie a un secondo tempo principesco regola 67-54 alle Thunder Matelica al Palastaccini nella ventesima giornata di A2 femminile. Sono Pangalos e Stroscio ad aprire le marcature per il 7-0 iniziale Pfu. Poggio sblocca Matelica, poi salgono in cattedra Lex Caprini e Offor propiziando il sorpasso ospite sul 9-10. Baldi rimette avanti la scuola di casa ma il finale di quarto è tutto di marca Thunder con Caprini e Gramaccioni a firmare il 17-23. Nel secondo quarto Pangalos e Scarpato impattano il punteggio con la numero 7 che dimostra un buon impatto sulla gara trovando il canestro del nuovo vantaggio interno. Replica immediata con Cagianuite e Sanchez, Staccini ferma il gioco sul 25-27 e poi i canestri di Stroscio ed Angelo valgono la nuova parità a quota 32 mentre sono Cupellaro da una parte e Celani dall'altra a sigillare il 34 pari all'intervallo. Dopo la pausa lunga Umbertide rientra bene e grazie a Pangalos inizia a macinare gioco e punti. Due canestri in fila della funambola cipriota valgono il più 4 ma poi tocca a Stroscio e Cupellaro firmare l'allungo sul 47-39. Gramaccioni prova a limitare i danni ma la Pfu è in controllo e al trentesimo conduce 47-42. Nell'ultima frazione Poggio trova subito il meno 3 ma Umbertide risponde presente e con due triple di Pangalos ed Angelo allunga nuovamente sul 53-44. Sussulto ospite con Caprine e Sanchez, Malinerzia e tutta bianco-blu e con Cupellaro e Baldi arriva il massimo vantaggio sul 65-49. Matelica alza bandiera bianca e Umbertide festeggia con i propri tifosi per il 67-54 finale. 24 punti e 4 assist per una Pangalos dominatrice tecnica della partita. 11 per Stroscio, 9 per Cupellaro mentre Baldi chiude con 8 punti e 9 rimbalzi. Umbertide sale a quota 14 tra nona e decima piazza assieme a Rovigo staccando di due lunghezze Vicenza ed Ancona. Ancora sei turni però in vista dove si deciderà la lotta per la sopravvivenza nella categoria. E domenica 3 marzo alle 18 seconda gara affilata al Palastaccini per una Pfu decisa proseguire il trend positivo e scalare ulteriormente la graduatoria al cospetto delle Venete di Posa Clima a Ponzano con pagine che occupa l'ottava piazza a quota 22.